Buongiorno a tutti, grazie per avermi ancora ospitato una volta Tatiana, adesso vi lascio al mio nuovo podcast. Cherasco è un borgo medievale nato nel 1243 in provincia di Cuneo, posto su un pian alto, cioè un ampio promontorio che domina sulla valle sottostante e ben visibile già dall'autostrada A33 che porta direttamente al paese. La posizione in cui si trova permette una visita sulle Langhe e sulle Alpi, quindi è una posizione veramente squisita. Una cosa da dire su Cherasco è che è un borgo molto importante, soprattutto perché Napoleone Bonaparte vi soggiornò dal 25 aprile 1796 al 28 dello stesso mese, firmando l'armistizio tra la Francia e il Regno di Sardegna e ponendo così fine alla guerra tra esse. Parlando appunto di Cherasco, una volta arrivati al paese è possibile lasciare l'auto al di fuori del centro storico, il mio consiglio è di metterla in via in Audi o nel parcheggio libero di piazza Lagorio, così da poter poi fare l'ingresso al borgo attraversando l'arco di Porta Narzole. Qui inizia il Corso Vittorio Emanuele II che è la via principale del paese, ricca di negozi locali e cose interessanti da vedere. Passeggiando appunto lungo Corso Vittorio Emanuele II, al numero 29 troverete il palazzo dove Napoleone visse nei suoi pochi ma intensi giorni di permanenza Cherasco ed è il palazzo Salmatoris. È uno splendido edificio al cui interno si tengono importanti e interessanti mostre di vario genere che vengono abitualmente ospitate al piano nobile e nelle splendide soffitte che sono completamente ristrutturate. È visitabile anche la saletta del silenzio che ormai è detta da tutti la sala della sindone ed è molto bello anche lo scalone in pietra dell'ottocento che porta direttamente al piano nobile. Per maggiori informazioni potrete mandare una mail all'indirizzo turistico chiocciolacomune.cherasco.cn.it. Proseguendo la vostra passeggiata arriverete a dei bellissimi portici sotto i quali vedrete dei negozi che vendono le specialità di Cherasco. La specialità di Cherasco che troverete sotto varie forme e lavorazioni ed è la famosa lumaca con cui anche negli ultimi anni oltre che a essere usata a livello alimentare viene anche usata per fare dei trattamenti estetici. Oltre a quello troverete anche i famosi cioccolatini sempre del posto che sono i baci di Cherasco. Proseguendo questo nostro giro di questo borgo andando ancora avanti incrocerete dopo i portici appunto sulla vostra destra via Cavour. Percorretela tutta fino a che arriverete al museo della magia. Se avete con voi dei bambini non potete assolutamente perdervelo ma comunque anche per chi è adulto potrà essere un vero divertimento visitarlo. Tenete conto che è la più grande esposizione museale nel settore della magia in Europa. Esso fa tutt'uno con la biblioteca che è interamente dedicata all'illusionismo ed è la seconda del settore più grande al mondo dopo quella del mago Copperfield. Se volete ulteriori notizie riguardo a questo museo potete trovarle sul sito www.museodellamagia.it. Una volta visitato il museo tornate indietro all'incrocio con Corso Vittorio Emanuele II attraversate la strada e vedrete che alla vostra destra troverete immediatamente il palazzo comunale proprio nell'angolo con la sua torre civica autore dell'orologio. È un palazzo del 1300 che ha subito nel tempo varie trasformazioni e vedrete che ha un affresco molto molto bello del XVIII secolo che riporta uno stemma ma ve lo dico fra virgolette della città perché non è un vero e proprio stemma. Comunque chiamiamolo stemma della città ed è rappresentato con due giovani ragazzi che a loro volta raffigurano il Tanaro e la Stura che sono i due fiumi della zona. Ma il vero stemma invece è quello che è riportato sulla torre che è una croce rossa su sfondo bianco. Al di sopra di questo stemma vi è un raro e molto prezioso lunario che raffigura una scena su cui la luna sorge e tramonta a seconda delle sue fasi. Più avanti proseguendo sempre il vostro giro e la vostra camminata arriverete al bianchissimo arco del Belvedere. Intanto godetevi tutta la piazzetta che si aprirà davanti ai vostri occhi perché è veramente molto bella e suggestiva. Questo arco del Belvedere che è bianco 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 veramente è della fine del 1600 ed è stato eretto come ex voto della città per essere stata esentata dalla peste del 1630 che si è abbattuta un po' dappertutto. Al suo fianco spicca la chiesa di Sant'Agostino del 1672 anch'essa bianca e grigia quindi molto molto chiara che è molto bella al suo interno ma esternamente ha un portale in noce biondo che è molto pregevole e soprattutto ha un intaglio molto fine e delicato. Arrivati a questo punto potrete decidere cosa fare per prima cosa. Se proseguire dritto e andare a farvi una passeggiata sul limitare del parco facendogli il passeggio bastioni e poi a chi potesse volesse fare la pausa o potesse interessare si può fermare a vedere il monumento commemorativo per le vittime dello stadio Eisel della partita della Juventus oppure decidere se invece svoltare subito a sinistra appunto passata la chiesa di Sant'Agostino e raggiungere all'hotel I Somaschi. Questo hotel probabilmente molti di voi lo conosceranno perché ha partecipato alla trasmissione ed ha anche vinto il programma appunto la trasmissione 4 hotel di Bruno Barbieri ma soprattutto la sua importanza non è dovuta tanto a questa cosa ma soprattutto al fatto che è stato ricavato da un antico monastero edificato nel 1700 ed è stato completamente restaurato e riportato ai suoi antichi splendori quindi è una veramente un edificio meraviglioso sia esternamente che internamente per chi ha la possibilità di andarvi è sicuramente bello anche da godere il suo interno e al suo fianco all'esterno dell'hotel subito di fianco c'è il santuario di Nostra Signora del Popolo che è una meravigliosa chiesa barocca la cui cupola per grandezza è la terza in Piemonte. Alla destra dell'edificio vi è l'orto botanico vi consiglio di fare un bel giro al suo interno di passeggiare tra i dialetti che sono tenuti benissimo e ammirare le piante e le erbe officinali che sono coltivate dai padri somaschi con grande cura e un paziente lavoro. Una volta visto questo potrete tornare indietro da dove siete partiti da dove avete lasciato la vostra auto dirigervi quindi fuori dal centro storico e tornare appunto sul corso Vittorio Emanuele II e una volta essere ripassati però questa volta in uscita sotto l'arco di Porta Narzole girare subito a sinistra in Viale Platani percorretelo tutto e vi troverete di fronte al castello Visconteo. Purtroppo la struttura non è visitabile perché è di proprietà privata ma dall'esterno già potrete ammirare la sua bellezza. è stato costruito dai Visconti nel XIV secolo ed è stato poi restaurato nel XIX. La sua struttura è quadrangolare, ha delle torri a illati, un ponte elevatoio e poi c'è ancora una torre in cui c'è l'ingresso, dove è situato l'ingresso al castello. Però per quanto mi riguarda, ed è un giudizio molto personale, quindi fatene l'uso che vi pare, l'attrattiva speciale di questo posto secondo me è il Viale che gli si snoda davanti ed è appunto Viale Platani. Qui vedrete questi alberi maestosi che, narra la leggenda, furono voluti e fatti piantare da Napoleone Bonaparte in persona. Questi alberi sono alti, possenti e hanno la particolarità che hanno dei tronchi così scavati che in taluni vi potrete infilare dentro, addirittura anche sedere e ovviamente fare delle bellissime foto molto particolari ed è un posto molto simpatico dove mettersi per fare foto anche perché ogni tronco ha un incavo diverso dall'altro, quindi le posizioni possono cambiare e vi potrete divertire soprattutto se avete i bambini, ma vi garantisco che io mi sono divertita anche non essendo così piccola. Uno di questi platani tra le altre cose è altissimo, alto 15 metri e da una circonferenza di 5 metri e mezzo. Vi racconto ora la leggenda che è legata a questi alberi, che narra che appunto il generale francese Napoleone Bonaparte, arrivato a Cherasco il mattino del 23 aprile del 1796 e non il 25 come si sa dai dati storici, arriva appunto a Cherasco con le sue truppe e l'assedia e durante l'assedio decide di stanziare le sue truppe davanti al castello. Siccome le fatiche della battaglia si facevano sentire, il clima era piuttosto caldo, Napoleone si ristorò all'ombra di un grande platano che era proprio, si trovava proprio davanti a questo castello, al castello Visconteo appunto. E pare che il riposo per il generale fu così gradevole e rigenerante che gli decise, si dice come a dimostrare la propria gratitudine alla pianta, di farne realizzare un intero iale. E quindi i platani che ci sono ancora oggi sono proprio quelli voluti da Napoleone e questo pare sia, almeno quest'ultimo dato, sia veramente un dato storico effettivo. Che poi sia stati voluti da Napoleone veramente per questo motivo, questo rimane ai posteri l'ardo a sentenza, come si dice. Comunque io spero che questo giro nel piccolo borgo di Cherasco, piccolo ma pieno di cose interessanti da vedere, vi sia potuto interessare. E aggiungo ancora una cosa riguardante questi platani che sia una leggenda o la verità, nulla toglie la meraviglia, la maestosità che queste piante secolari regalano al viale in cui si trovano. E vi garantisco che sono davvero davvero belli. Buon giro quindi, buona gita e divertitevi ancora una volta nel mio territorio piemontese. E a te Tatiana, grazie mille per avermi ospitato ancora una volta e un abbraccio grande a te e a tutti quelli che mi hanno ascoltata. Grazie a tutti.